Direttamente dalla storia Ci sono In tutti si agita un'anima buona e una cattiva In tutti, ma non in lui In lui la parte buona è più che buona Anzi è pericolosamente buona Sono bellissima Direttamente dalla storia Direttamente da bisnonno a pronipote La storia si ripete per la prima volta sugli schermi di Canale 5 Sono ciechi Scoprirete uomini così L'orrore dell'orriplante cosa femmina Che si agita in voi Miss Hyde Dottor Jekyll e Miss Hyde Lunedì alle 21 per i filmissimi su Canale 5 È nata da E.V. Matiz L'essenza di una grande auto Malizia ha una novità per lui e per lei È Malizia Unisex L'Ode Toilette Odoran allo Smandus Per intense sensazioni Oggi è un nuovo giorno Nasce Vitasnella di Saiva Una nuova linea di prodotti Con tanto gusto, tanta leggerezza e pochi grassi Per cambiare la colazione, il pranzo e il fuori pasto Vitasnella di Saiva Tanto gusto, con pochi grassi Direttamente dalla storia Ci sono In tutti si agita un'anima buona e una cattiva In tutti ma non in lui Direttamente dalla storia Ci sono In tutti si agita un'anima buona e una cattiva In tutti ma non in lui In lui la parte buona è più che buona Anzi è pericolosamente buona Sono bellissima Direttamente dalla storia Direttamente da bisnonno a pronipote La storia si ripete per la prima volta Sugli schermi di Canale 5 Sono Jekyll Scoprirete uomini così L'orrore dell'orripilante cosa femmina Che si agita in voi Miss Hyde Dottor Jekyll e Miss Hyde Lunedì alle 21 per i filmissimi su Canale 5 E' nata dai V Matiz L'essenza di una grande auto Malizia ha una novità per lui e per lei E' Malizia Unisex Lo de Toilette Odoran allo Smandus Per intense sensazioni Oggi è un nuovo giorno Nasce Vitasnella di Saeva Una nuova linea di prodotti Con tanto gusto Tanta leggerezza E pochi grassi Per cambiare la colazione Il pranzo E il fuoripasto Vitasnella di Saeva Tanto gusto Con pochi grassi Direttamente dalla storia Ci sono In tutti si agita un'anima buona E una cattiva In tutti ma non in lui In lui la parte buona E' più che buona Anzi è pericolosamente buona Sono bellissima Direttamente dalla storia Direttamente da bisnonno a pronipote La storia si ripete per la prima volta Sugli schermi di Canale 5 Sono Jekyll Scoprirete uomini così L'orrore dell'orripilante cosa femmina Che si agita in voi Miss Hyde Dottor Jekyll e Miss Hyde Lunedì alle 21 per i filmissimi su Canale 5